Chiara Ferragni, la consorte del rapper Fedez, lancia una linea make-up ma è polemica, 40 euro per un mascara. Quindi Chiara Ferragni ha fatto sapere ai suoi fallover di aver lanciato una linea femminile di prodotti per il make-up. Quindi la biondissima Ferragni pubblica sul suo profilo ufficiale di Instagram un post la cui descrizione ha riportato le prime curiosità sul nuovo brand per quale fa la testimonial. Quindi nuovo tutorial realizzato utilizzando la mia collezione con il mio make-up artist. Questo è quello che scrive la Ferragni. Spero vi piaccia. Acquistate la collezione al link in Biol. Ha scritto Chiara nell'ultimo post condiviso in rete con i suoi fedeli sostenitori. Ma i prodotti lanciati dalla Fashion Blogger in edizione limitata sono già finiti nel merino delle critiche giunte da parte di chi contesta i prezzi troppo cari imposti per il brand dell'influencer. 40 euro per un mascara rispondono i follower anche no. Si legge appunto tra i commenti ai suoi post. La Ferragni è appunto reduce da uno dei festeggiamenti per il suo compleanno dove aveva affittato intero Gardaland per i suoi amici e il marito gli ha regalato anche un anello del valore di 50.000 euro. Forse con il successo i soldi probabilmente i 40 euro per un mascara non hanno più loro l'idea di cosa sia di quelli sia il valore di un euro di 10 euro 30 euro perché chiedere 40 euro per un mascara è fuori dalla realtà. Ecco forse sono andati un po' fuori dalla realtà. Grazie!